L'imperativo è cambiare. Il turismo da 1.200.000 visitatori l'anno ad Assisi, che arriva con Tour Operator, già adesso non c'è più. Le rendite tradizionali sono scomparse, i musei e i monumenti da soli non bastano. La cultura piace a chi viene in Umbria, ma si è intersecata con altre esperienze, escursionistiche, no gastronomiche, sperenziali in genere. Con l'aggiunta che il turista, specie straniero, sempre più cercherà nei pacchetti due parole che vanno per la maggiore, slow e green, ovvero turismo lento e turismo ecologico. Tutto il resto andrà fuori mercato. È in estrema sintesi il succo del convegno che a Palazzo Ducale di Gubbio, ospitati dalla direttrice Paola Mercurelli Salari, ha dato il via alla seconda anteprima di Suoni Controvento, il festival delle arti performative promosso da Aukma, che si è interrogato sul tema «Condividiamo cultura verso un turismo lento e sostenibile». La cultura è un bene anomalo. Più la si condivide, più cresce di valore. Per condividerla, però, è necessario che più attori del mondo del turismo si interfaccino tra loro. I direttori dei musei con le guide escursionistiche ambientali, gli albergatori con i promotori di eventi. Fare insomma rete per costruire esperienze turistiche uniche, perché lo slow, affermato la Fondazione Fitzcarraldo, che studia questi fenomeni su larga scala, è bello ma va costruito. Per costruirlo poi servono soldi. E la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, infatti, sta sempre più finanziando progetti che costruiscono reti. Bisogna attrezzarsi per essere slow. Essere slow vuol dire avere rifornimenti, avere occasioni di fermarsi, avere occasioni di riposarsi. Per cui non è facile praticare lo slow se il territorio non è attrezzato. Occorre posare le biciclette, occorre potersi riposare, occorre poter entrare nei luoghi che si vedono anche in condizioni diverse, con gli zaini, mentre si fanno altre cose. Cioè bisogna costruire un complesso di opportunità banale, se ci si pensa, ma al quale è difficile arrivare perché non si prende in esame il punto di vista di chi cabina, di chi marcia, di chi attraversa. Condividiamo cultura di questa preview di suoni contro vento. E in effetti quello che noi stiamo cercando di fare, soprattutto nell'ambito della cultura, è quello di riuscire a fare reti tra soggetti. È chiaro, è un'impresa abbastanza complessa, è difficile. Adesso lo stiamo facendo nell'ambito della progettazione europea, con i nuovi bandi di Europa Creativa. Siamo scesi in campo con le nostre risorse e stiamo cercando di costruire il più possibile partenariati e reti di soggetti. Da Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi, la disamina della situazione attuale in Umbria. Il turismo sta risollevandosi dal blackout covid, ma la risalita è lenta, mancano i numeri, mancano gli stranieri. Serve un progetto Umbria e non microprogetti locali con finanziamenti a pioggia. Serve una nuova mentalità che dimentichi il tipo di turismo massivo su cui si erano sedute in realtà come assisi e non solo. Se la scommessa è costruire esperienze a ritmo slow per invogliare e arrestare di più sul territorio, come ha ribadito Paolo Morbidoni, portavoce nazionale delle strade del vino, dell'olio e dei sapori, moderatore dell'incontro, proprio del territorio bisognerebbe occuparsi con più attenzione, secondo Fabio Rossi, presidente di Confagricoltura. Occuparsi di quegli imprenditori del mondo agricolo che curano il territorio, lo coltivano ogni giorno, ma scarsamente sono tutelati, specie in aree montane. Il caso dei danni da cinghiale è solo un esempio. Quanto al green, l'Italia, secondo Daniele Invernizzi, presidente di EveNow, ente privato di ricerca, sviluppo e promozione della mobilità elettrica che opera in tutta Europa, ha grandi potenzialità ma poco sfruttate. I turisti del nord viaggiano ormai su auto elettriche e scelgono mete che garantiscano ricarica in albergo e per le strade. Ignorare questo cambio culturale significa essere tagliati fuori da un mercato sempre più crescente. Finale di giornata nello scenario unico del cortile di Palazzo Ducale, con il cantante ed armonicista Fabrizio Poggi, nomination al Grammy 2018, due volte candidato agli Oscar del Blues, che insieme al pianista Enrico Pescia ha portato a Gubbio il suo Hope Tour Live. Grazie a tutti.